madonna avesse anche in ritardo ste donne le dici quando le dici devi essere qui alle ore tot non vuol dire che devi uscire da casa alle ore tot che faccio adesso mentre l'aspetto magari mangio un cioccolatino ecco quanto mi piace va bene adesso facciamo come fanno i grandi maestri l'ho preso ciao bass cosa pensi di fare con questo cioccolatino mangiato cosa credevi io ti faccio un'altra proposta va bene però ogni tanto mi mangio il cioccolatino no ma ste donne ma ste donne allora fammi la proposta ecco allora la proposta è di fare una torta rovesciata all'ananas tra l'altro il tuo colore no? il tuo colore no? il tuo colore no? il tuo colore è un'ottima ricetta se hai voglia di affetto di dolce allora siamo se questa torta all'ananas che le dici amico mio? si certo se la facciamo non mi piacerebbe se la mangio e poi mi mangio anche qualche cioccolatino no no tu no io si eh si però non va bene così va bene lo facciamo sta torta all'ananas si dai tu gli ingredienti li hai già? si si ho tutto pronto allora dopo la sigla sostituiremo questo ben di dio con gli ingredienti per questa torta rovesciata all'ananas ci vediamo tra poco sigla sigla allora amici adesso vi presentiamo gli ingredienti per questa super super torta allora iniziamo pass farina 210 grammi zucchero 130 grammi yogurt 130 grammi yogurt greco zero grassi uova 3 meglie che cos'è questo pass? olio di semi olio di semi 40 grammi 40 grammi 40 grammi 40 grammi lievito mezzo gustina lievito per i dolci giusto 3 fette di ananas che poi vanno tagliate effettivi a pezzettivi dopo limone la scorza limone grattugiata deve essere limone biologico ottimo e dopo di qua abbiamo per la farcitura che cosa abbiamo? 7 fette di ananas intere ottimo e anche? zucchero di calda 10 grammi ancora zucchero ok penso che abbiamo finito con gli ingredienti esattamente mi saprei che parlo con robo esattamente ok allora questo robo questo qua adesso ci fa la nostra torta esattamente prima cosa rompiamo le uova indovinate chi le deve rompere le uova ecco poi li sbattiamo con lo zucchero iniziamo ok adesso inizio a sbattere e aggiungo un po' di zucchero ecco come vedete le uova si sono schiarite e quindi adesso possiamo aggiungere l'olio ecco e poi lo yogurt greco zero grassi giusto questo? giusto ok bene aggiunto lo yogurt adesso il prossimo step è di setaggiare la farina e aggiungere dentro il lievito un po' di pizzico di sale e aggiungiamo anche la scorzetta di limone dentro e tutto questo va aggiunto nel recipiente grande un po' alla volta ovviamente sempre mescolando ecco abbiamo ottenuto un bel colore giallo come la mia maglia bene abbiamo versato tutta la farina adesso il prossimo step è le tre fettine di ananas che abbiamo asciugato abbiamo privato del succo li abbiamo spezzettati a piccoli pezzettini li aggiungiamo nella mistura un po' alla volta bene nel frattempo abbiamo preparato una forma che abbiamo foderato di carta nonno poi l'abbiamo ingurrata infarinata e adesso mettiamo in fondo le fettine di ananas intere venite con me una ad una abbiamo cercato di togliergli un po' di sugo per essere abbastanza asciutti così così quindi distribuiamo così per creare un disegno bello però bellissimo e adesso lo spargiamo di zucchero di canna così così si potrà che basta cosa diciamo noi abbondiamo bene ok fatto ciò adesso dobbiamo versare tutto il composto difficoltoso ma io mi aiuterò con con la mia spatola bene una lecattina buono lo distribuiamo con le mani con la spatola e poi con le mani allora siamo pronti adesso portiamo la futura torta nel forno statico 180 gradi per 35 minuti anzi vediamo se saranno 35 con la prova dello stecchino lo stecchino dice che la torta è pronta dopo 32 minuti e 23 secondi quindi adesso andiamo a tirarla fuori wow che meraviglia 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 adesso la tiro fuori meraviglia adesso questa meraviglia si deve raffreddare e poi sarà capovolta sul pronto piatto aia brucia 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 va bene passate 5 ore e 23 minuti no sto scherzando detto con 10 minuti la torta si è raffreddata e adesso possiamo capovolgerla allora adesso dobbiamo liberarla qui dalla forma mettiamo questo piatto prendiamo uh mettiamo è veramente cauda cauda e la capovolgiamo bene wow che magia ecco che bella e adesso la mettiamo bene e questa è la nostra bella torta all'ananas adesso la taglio VES a tavola arrivo se vi è piaciuto il video iscrivetevi al nostro canale VAS e VES attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità metteteci un like e scrivete nei commenti sotto come vi è riuscita la ricetta alla prossima ciao 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 Grazie a tutti